Grazie per la visione! Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Contro il Trastevere i fedardenzi hanno mostrato dei segnali incoraggianti, anche se purtroppo non sono arrivati i punti. In questo Tour de Force, con tre partite in una settimana, i ragazzi di mister Enrico Piccioni dovranno provare a portare a casa dei punti preziosi. Calcio d'inizio, mercoledì 11 maggio, alle ore 16, al Tuvaldi di Recanati, dirige l'incontro il signor Fabrizio Ramondino di Palermo. Siamo qui con mister Enrico Piccioni per presentare la prossima partita di Biancoverdi contro la Recanatese. Mister, come sta preparando questa sfida impegnativa contro la Recanatese neopromossa in Serie C? Sì, innanzitutto abbiamo parlato un pochettino con i ragazzi, perché dopo la buona prestazione di domenica siamo usciti senza punti, però abbiamo fatto una nuova prestazione, abbiamo fatto 70 minuti in buono, e quindi abbiamo lavorato un po' soprattutto per cercare di dimenticare subito questa partita e pensare alla Recanatese, che non è giocato insieme, all'allenatore Pagliari, per i grandissimi che hanno fatto l'anno fatto. Quindi sappiamo che è una partita difficilissima, però loro, i ragazzi o chiunque, non deve pensare che la Recanatese ti regalera qualcosa, che ne facciano regalare nessuno, come giusto che sia, quindi stare con noi, andare in campo e cercare di fare, che non fa 70 minuti e sabato, cercare di lottare su tutti i palloni e metterli anche in difficoltà. Quindi ci stiamo preparando, pur sapendo che andiamo in un campo difficile, però noi dobbiamo usare le nostre armi per venire fuori con un risultato. Immagina i dettagli della tua casa ideale, colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parchi e buiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa.